Un punto trovato o due punti persi? Due punti persi. Ma lo dico in forma decisa perché è la verità. Per una disattenzione siamo stati sotto di un gol e onestamente la partita ha dimostrato che la Senna ha avuto più occasioni sicuramente ha governato la partita non ha concretizzato però non è riuscita a buttarla dentro. Ricordati che quello che conta è fare gol e fa gol e puoi farlo. Non farli fare. Farli fare però pareggi se non lo fai. Quindi il problema è che bisogna buttarla dentro se non siamo riusciti a buttarla dentro. Purtroppo poi contano i risultati e i fattori imponderabili. Alcune partite, in particolare dall'ultimo due questa di oggi e quella del precedente abbiamo regalato la partita perché potremmo stravinciare tranquillamente. Se noi sprechiamo le occasioni ma questo non significa che la squadra non è idonea bisogna essere più concentrati secondo me adesso piano piano ci stiamo avviando a trovare il mix giusto per poter calibrare e far esprimere al 100% le potenzialità di questa squadra di dare l'opportunità a tutti di potersi esprimere. Poi farà le sue protezioni ex post penso che l'abbia già fatta ha fatto dei cambi mi sembra sono stati i cambi idoni come si diceva nel gioco ci sono azzeccati giusti e quindi poi sai i cambi sono giusti poi dopo torna a ripetere la partita è la valla devi buttarla dentro e oggi le persone che sono preposte a buttarla dentro diciamo stanno dal punto di vista della possibilità di fare gol se non realizzano quello che hanno realizzato lo scorso. Queste sono partite che lo dice la storia possono nascere brutte e finire ancora peggio. C'è stato questo episodio che può capitare a tutti però abbiamo subito avuto la forza di riprendere in mano il bando della Matassa a creare secondo me credo che nel primo tempo il risultato ci stava molto stretto abbiamo creato tanto a volte ci è mancato l'ultimo passaggio l'ultimo cross abbiamo sbagliato tre, quattro occasioni davanti alla porta secondo tempo credo che non dico che abbiamo giocato meno bene forse abbiamo lasciato da fuori questa parvenza di essere una squadra un pochettino più lunga di dare la possibilità alla squadra avversaria di poter incidere un po' di più però almeno questo è quello che penso io la Sanitana ha dimostrato oggi di manca qualcosa sotto l'aspetto di tre punti in campo se c'è una squadra che mi dà di vincere oggi è la Sanitana che si è una squadra che mi dà di vincere un po' di più